Primo Van Gardneren, il secondo Reblon, attenzione perché adesso ha alzato il braccio, sì, Chris Froome ha alzato il braccio Chris Froome come per voler chiedere l'intervento dell'ammiraglia, si è fermato immediatamente anche Ricci Porte Vediamo adesso cosa potrebbe succedere perché Chris Froome continua nervosamente a chiamare l'ammiraglia Foratura no Sicuramente non è un problema di foratura, almeno da quello che abbiamo potuto verificare per Chris Froome Ho un problema al cambio, però vedremo, potrebbe chiedere l'intervento dell'ammiraglia, sai, forse per cambiare bicicletta, vedremo Tanto per Van Gardneren Peritola si volta come per chiedere l'aiuto a Nairo Quintana e immediatamente arriva lo scatto del colombiano Avete visto Peritolo di Vighez che quasi ha detto a Nairo Quintana, allora vogliamo dare una mano, proviamo a scattare oppure no? Rimango senza mangiare, ha chiesto zuccheri, ha chiesto zuccheri Attenzione, attenzione perché l'uomo con il martello che hai appena ricordato, forse non ha preso di mira Van Gardner ma sta prendendo di mira adesso Chris Froome Infatti vedete, è proprio Ricci Porta che passa qualcosa da mangiare a Chris Froome Infatti vedete, grazie a tutti